C'ho provato pure io. Accendioci a citturare, che tu puoi sentire l'opesa da come me, mi vedi così? Mi sta piacendo, sì o no? Sì! Allora, come ti chiami? Andrea, vabbè la cosa, Andrea! Non c'è una luce! Non c'è una luce! Non c'è una luce! Non c'è una luce! Se sta per vedere se è funzionato, secondo me! Viene a quattro! Ok! Perfetto! 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 Che tu puoi? Mi ha fatto bene! Allora, mi posso presentare? Io mi chiamo Giano, scusate! La prossima vita e la prometta a tutti! Sarà un'altra cosa! Ma no! L'ingegnere, l'avvocato, il bambino, 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 il bambino... ...e non può documentare le attività delle lancze, come dicevo qui! Qual è questa luce? La realtà è per quelli senza immaginazione che vuoi dire! E' vista con la nostra, che abbiamo stato in avanti! ... ... Guardate lei! Cioè lei ha guardato tutto lo spettacolo attraverso lo schermo! Cioè ormai pure quando le cose sono reali, se non sono boccato le mie o sempre le guardiamo dire con lo schermo! ... 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 lo posso attracciare? lo posso attracciare? senti un po' ma secondo te la vera luce dove spegne? dici ma che non è stai lì? c'è una luce che non si spegne mai mica sta per cento dai cosa è che stavo lasciando? avviamo un campo sta dentro ce l'ha pure Andrei 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 Andrei, dove hai lasciato la luce? eh? questa scusa è vero ma allora la luce è scesa ecco la cosa secondo me secondo me l'arte è 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